Il 25 settembre si va alle urne, il 22 agosto scade il termine di presentazione delle liste elettorali. Due date conseguenti alla tempesta perfetta sul governo Draghi che portano anche le Marche a mobilitare i propri esponenti politici papabili alla candidatura in una campagna elettorale estiva che sarà unica nel suo genere. Una campagna che ha spazi di riuscita più ridotti rispetto al 2018, visto che la norma sul taglio dei parlamentari di fine 2020 ha ridotto da 24 a 15 i candidati marchigiani eleggibili, ovvero 10 alla Camera dei Deputati e 5 al Senato. Un posto verso Roma che fa gola a diversi esponenti del territorio regionale, soprattutto fra quelli della giunta Quaroli. Mirko Carloni si è ad esempio detto concentrato solo sul lavoro per la propria regione, ma la strada verso il Parlamento sembrerebbe allettante per l'esponente fanese della Lega al pari di sirene insistenti su assessori regionali come Giorgia Latini e Guido Castelli. Quaroli dovrà gioco forza cominciare a ragionare sul rimpasto di giunta nel caso di perdita di uno o più pezzi della sua squadra di governo. Diverso il discorso per Matteo Ricci. Il sindaco di Pesaro va a scadenza di mandato nel 2024 e Enrico Letta, assieme ai vertici del PD, avrebbero richiesto agli amministratori locali, a fine mandato, di candidarsi alle prossime elezioni. Ricci prende tempo dicendo di pensarci così come altri sindaci, ma è una riflessione che si sta scontrando con tempi stretti e una complicata strada normativa. Non è infatti ancora del tutto chiaro se occorra dimettersi entro questa settimana per candidarsi, così come non è del tutto chiaro se le dimissioni porterebbero ad una continuità col vice sindaco in sede comunale o a un più probabile commissariamento prefettizio della città. Due strade in attesa di chiarimenti, ma che al momento tengono Ricci molto più ancorato alla permanenza a Pesaro che all'assalto alla capitale.